dunque termina uno a uno chi volesse anche guardare statistiche i numeri di questa partita potrà farlo l'ho messa come sfondo anche perché credo che uno sfondo grigio sia veramente l'ideale dobbiamo secondo me scindere due tipi di discorsi il primo per quanto riguarda il commento scevro dall'estetismo un commento che riguarda il campionato e dobbiamo dire che probabilmente il titolo migliore potrebbe essere l'occasione mancata per l'Inter considerando il fatto che oggi avesse vinto qualora avesse vinto avrebbe distaccato la Juve e probabilmente sarebbe stata una fuga decisiva invece l'Inter che aveva dimostrato dopo l'uno a zero di Vlaovic con una reazione veemente di poter mettere in difficoltà la Juve giocando da Inter si è un po' crogiolata dopo il pari è ricominciato a giocare un po' timida insicura a metà strada tra il cercare la vittoria e accontentarsi comunque del pareggio io credo che questo ripeto scevro da qualsiasi contesto di cui parleremo tra poco questo pari per l'Inter potrebbe diventare un grosso rimpianto per la Juve una grandissima occasione perché adesso vuol dire che il primato non si giocherà più nello scontro diretto dove oggettivamente la squadra nerazzurra soprattutto oggi considerando le assenze della Juve poteva avere qualcosa in più ma si giocherà nelle altre partite e sappiamo che nel campionato italiano le sorprese sono dietro l'angolo io credo che alla vigilia se qualcuno avesse detto che l'Inter e la Juve arrivati ad oggi avessero una sconfitta testa ad opera del Sassuolo probabilmente nessuno ci avrebbe mai creduto quindi da questo punto di vista campionato che rimane apertissimo ma la seconda parte del discorso parte con una provocazione io oggi che ero a tele Lombardia mi sono divertito ma molto ma molto ma molto di più nel vedere Empoli Sassuolo 3 a 4 due squadre che si sono affrontate a viso aperto due squadre che volevano vincere che non hanno avuto paura di perdere non so se questa partita sia un bello spot per il campionato italiano ma forse è un manifesto del campionato italiano come diceva il mio caro amico Carletto Pogliani che spesso ricorderò un campionato rietta Bertiano un campionato giurassico invece dico io un campionato vecchio sempre con la paura di perdere l'Inter non sfrutta le sue potenzialità che si sono viste a cavallo tra il gol di Vlaovic e il pareggio di Lautaro Martinez la Juve si crogiola in questo non gioco nell'esaltazione di non far giocare l'avversario e nell'esaltazione di accontentarsi del poco di considerare un secondo posto il non perdere un traguardo qua si sposano i figli ovviamente dei concetti di Allegri che purtroppo hanno preso il sopravvento anche su gran parte della tifoseria Juve comunque che dimostra la sua solidità questo va riconosciuto una squadra molto difficile da battere però una Juve che come sempre quando pensa che non prendere gol sia ancora il principio basilare del campionato italiano secondo me non c'entra il punto della situazione perché poi abbiamo visto che una squadra come l'Inter nel giro di sei minuti presa dalla rabbia presa dalla voglia di reagire ha praticamente segnato subito e non su un errore della Juve ma su un'azione proprio fatta dalla squadra di Simone Inzaghi che ha avuto poi il torto di fermarsi lì e di accontentarsi terrorizzata che potesse perdere la testa della classifica contro questa Juventus. Concludo con una nota di amarezza nota di amarezza rappresentata dai fischi a quadrado un giocatore che comunque ha fatto la storia della Juve un giocatore che è sempre stato corretto nei confronti di tutti gli allenatori che ha avuto quando addossato alla maglia bianconera un giocatore che alla fine è stato mandato via non gli è stato rinnovato il contratto aveva tutti i diritti di accasarsi dove voleva male 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 non solo i fischi che dimostrano ingratitudine ma male anche il fatto che a certuni viene perdonato qualsiasi cosa anche di andare in un altro club in un club rivale mentre ad altri altri vengono per dire alla Loredana Bertè crocifissi al muro